Consigliere Corbetta, lei è primo firmatario di un emendamento presentato alla legge di stabilità che va incontro alle attività produttive. In che senso? Sì, è un emendamento che istituisce la misura zero IRA per tre anni alle attività artigianali e commerciali che investono i nostri centri storici. Quindi noi stiamo già immaginando il post-Covid, incentiviamo i cittadini a investire all'interno dei propri comuni anche perché i centri storici stanno morendo. Comunque assistiamo a un processo di desertificazione dei nostri centri storici a causa prima della concorrenza dei grandi centri commerciali e in seguito all'evolversi del commercio online e delle vendite online. Per cui noi abbiamo messo in campo questa misura in quanto noi riteniamo che i negozi di vicinato rappresentino un presidio fondamentale per la vita dei nostri comuni e dei nostri centri e ogni negozio che andiamo a perdere, ogni cler che si abbassa, significa un impoverimento del nostro tessuto sociale ed economico. Quindi questa misura serve appunto per stimolare e investire nelle nostre comunità anche perché appunto i nostri comuni devono essere vivi. Se c'è vita all'interno delle comunità c'è sicurezza e c'è sicuramente un miglioramento per tutti.